ha partita una sorta di guerra al federalismo fiscale approvato dalla Lombardia. Secondo lei perché? Perché riemergono antiche paure, perché c'è chi alimenta lo scontro. In realtà, come ho spiegato molte volte, tra tutte le regioni è intercorso un accordo unanime sui principi del federalismo fiscale. La proposta di legge che Regione Lombardia ha avanzato, la stiamo spiegando a tutti per capire che non è punitiva nei confronti di nessuno, ma induce a buone pratiche amministrative un risparmio della spesa, certamente ci sarà molto da lavorare, da impegnarsi, da convincersi, da dire, da spiegare, da trascinare con noi. Come tutte le grandi e importanti riforme, la fatica non mancherà, ma dobbiamo arrivare in porto. Il Presidente del Consiglio regionale Albertoni ha detto chiaramente che senza il federalismo il paese Italia si dissolve. Condivide questa analisi? Sostanzialmente la condivido, perché il federalismo è il nuovo nome dello Stato italiano. Noi dobbiamo passare da uno Stato centralista, che ha funzionato molto tempo fa, ad uno Stato finalmente federale, ad un patto tra i cittadini italiani federalista, perché questo significa costruire uno Stato moderno, un paese che passa dall'essere un meccanismo ingessato a diventare invece un organismo vivo, in cui diversi arti hanno funzioni diverse pur coordinate tra di loro. Se continuiamo a rimanere ingessati difficilmente potremo vincere nella competizione globale che si è scatenata ad ogni livello.